Nomine pronte e giunta comunale che così potrà mettersi al lavoro. Chiara Trulli, neosindaco di Spoltore, ha scelto la squadra che la seguirà in questi cinque anni di mandato amministrativo. Tre consiglieri sono del Partito Democratico, Quirino Di Girolamo, Stefano Sebastiani, il quale va verso la riconferma come assessore ai lavori pubblici, e Francesca Sborgia. Un assessore, Roberta Rullo, fa riferimento alla lista insieme e nada di Gian Domenico per la lista sinistra civica. Ci aspettiamo di partire subito con una buona amministrazione, una bella squadra, sia in giunta che in consiglio, fatta da persone competenti e motivate, e quindi di onorare tutti gli impegni presi con la cittadinanza. Non fa parte invece dell'esecutivo il più votato alle recenti elezioni del 12 giugno, Lucio Matricciani. In tanti si aspettavano, lui in primis, forte delle 673 preferenze, la delega da vice sindaco, ma è lo stesso prima cittadino a confermare come per Matricciani si profili l'inizio dell'undicesimo anno consecutivo alla guida del Consiglio Comunale, figura chiave anche in vista della Costituzione Ufficiale della Nuova Pescara. Il ruolo della Presidenza del Consiglio è diventato un ruolo chiave in questo, perché i Presidenti del Consiglio hanno anche questo ruolo importante di traghettare le amministrazioni insieme al Sindaco nell'ottica della fusione, quindi sicuramente lui avrà appunto il ruolo da protagonista anche nella conduzione dell'amministrazione verso questo processo di fusione. E in generale anche il Consiglio Comunale sarà composto da persone anche nuove, alla politica, bellissime personalità a cui comunque noi garantiremo un pieno coinvolgimento, oltre che nelle scelte dell'amministrazione, anche nei ruoli che servono per fare bene per la comunità. Quindi penso proprio che assegnerò anche delle deleghe ai consiglieri per valorizzare tutte le competenze.